Salve a tutti e a tutte. Sono Serena Tinari, giornalista d'inchiesta specializzata in medicina e salute pubblica. Sono qui con voi oggi perché il CICAP ha deciso di assegnare a me e al mio lavoro il premio 2021 in difesa della ragione. Quindi anzitutto vi ringrazio di questo premio che mi onora e che mi imbarazza anche un po'. Lo dedico agli esperti e alle esperte vere, molti e molte delle quali in questo anno e mezzo sono state trattate malissimo e lo dedico a mio marito Patrick Baumgartner che mi ha sempre sostenuto nonostante suppongo non sia semplice stare insieme ad una che fa il mio mestiere e lui ci riesce da oltre 20 anni. Questi sono i miei conflitti di interesse. Credo che sia molto importante che i conflitti di interesse siano esplicitati. Ho fondato con Catherine Rivà Recheck, Investigating and Mapping Health Affairs, di cui sono co-presidente. Non ricevo finanziamenti diretti o indiretti dall'industria farmaceutica. Collaboro tra gli altri con il British Medical Journal e con la rete internazionale del giornalismo d'inchiesta. Utilizzo Twitter con l'account Serena Tinari. Il mio curriculum completo è disponibile su LinkedIn e le mie principali pubblicazioni, interviste, attività le trovate su recheck.ch e sul mio sito personale serenatinari.com. Oggi vi parlerò di giornalismo e scienza in modalità pandemica. Vorrei cominciare col dirvi che da marzo 2020 la vita è diventata difficile, in qualche caso molto difficile per tutti e per tutte. Dal mio punto di vista personale, di giornalista specializzata in questo settore, confesso che è un periodo per me di grande disagio. C'è che nel 2010-2011 mi sono occupata a lungo di influenza suina e in particolare ho lavorato per la televisione pubblica svizzera sul caso Tamiflu. Qualcuno forse se lo ricorderà. Un farmaco antivirale che doveva salvarci dalla pandemia, quella di H1N1 e magari anche le successive. Il Tamiflu, un prodotto Gilead commercializzato da Roche, è stato messo sul mercato con una base di prove scientifiche povera. Quindi ecco, provate a mettervi nei miei panni, medicina fondata sulle prove, anni di studio matto e disperato della metodologia, delle regole del gioco e delle pandemie e poi ti svegli una mattina e sei in lockdown. E all'improvviso tutti i giornalisti si trasformano in esperti di sanità e medicina e la maggior parte degli utenti dei social media si convincono di essere epidemiologi delle malattie infettive. Io credo che l'informazione sia a potere e che tutti abbiano il diritto di sapere la verità, anche quando è scomoda. Ma ecco, non ci si improvvisa specialisti in questo settore. Ma andiamo con ordine. Anzitutto richeck. Quello che noi facciamo è il crocevia di giornalismo investigativo e evidence-based medicine, anche chiamata IBM, ovvero la medicina fondata sulle prove, condividono un approccio ipotetico-deduttivo. Ora, cosa significa per una giornalista d'inchiesta lavorare con la metodologia IBM? Ogni analisi deve essere fondata sulle migliori prove scientifiche al momento disponibili. L'incertezza, la mancanza di certezza devono essere comunicate al paziente nella medicina fondata sulle prove e nel nostro caso al pubblico. Significa anche mettere al centro cosa sappiamo ma anche cosa non sappiamo e vuol dire essere sistematici. Vorrei parlarvi oggi in generale della copertura mediatica dei temi legati alla salute e la medicina. Quasi sempre e per certo troppo spesso vediamo opinioni di esperti, vediamo studi in vitro o sperimentazione animale e vediamo molti studi osservazionali sempre presentati senza contesto. La classica frase è uno studio ha dimostrato che. Bene che va si tratta quindi di lavori di un livello basso di prova perché sono soggetti a bias e a fattori confondenti. Ma questa è una lunga storia evidentemente. Arrivando invece al punto la crisi del nuovo coronavirus parlerò oggi di alcuni aspetti specifici. Il primo chi è esperto? Il secondo il giornalismo pandemico che spesso è un mero copia e incolla di comunicato e stampa di governi e industria farmaceutica. Numeri senza contesto a reti unificate e una cronica mancanza di messa in prospettiva accompagnata a grafiche quotidiane di colore rosso. Vorrei parlarvi anche di scienza pandemica fuori controllo e infine della comunicazione molto spesso contraddittoria con uso di parole forti soprattutto da parte delle autorità. Cominciamo con chi è l'esperto. In questa slide vedete ci sono diverse discipline della medicina e della ricerca. Virologi, immunologi, sviluppatori di vaccini, infettivologi, ricercatori clinici, farmacoepidemiologi, epidemiologi clinici e poi nel comparto diciamo proprio della salute pubblica abbiamo gli epidemiologi delle malattie infettive, quelli della sicurezza vaccinale, quelli comportamentali, altri epidemiologi, poi ci sono gli ufficiali di salute pubblica e gli esperti di politiche sanitarie. Quelli che vedete evidenziati in rosso in questa slide sono in effetti specialisti che sulla crisi attuale avrebbero senz'altro qualcosa di utile e interessante da dire. Detto questo invece chi troviamo in prima pagina? In questa slide vedete due esempi dal panorama mediatico italiano. La prima è l'album delle figurine dei virologi, la fonte è dagospia.com perché insomma i virologi sappiamo che sono in prima pagina dall'inizio di questa crisi non solo in Italia e Dagospia l'ha buttata un po' a scherzare l'album panini delle figurine. E quest'altro invece che vedete è un esempio che mi ha lasciato abbastanza perplessa ovvero una biologa che in televisione in Italia ha simulato la tosse da covid e è stata ripresa da tutti i giornali. Evidentemente ecco ci sono forse dei problemi in questo tipo di racconto mediatico. E da qui vorrei parlarvi di una questione che so che sta molto a cuore al C-Cup perché ho visto che avete organizzato tante cose su questo tema ovvero i bias o i pregiudizi cognitivi. Daniel Kahneman che ha scritto dei libri meravigliosi su questo tema scrive siamo cercatori di modelli credenti in un mondo coerente. Questa è un po' una possibilità di guardare all'origine di quelli che sono appunto i bias cognitivi che sono anche molto importanti nella grande famiglia dei conflitti di interesse che sono un tema fondamentale in medicina. Quindi nei conflitti di interesse che cosa succede? Anzitutto che non sono solo finanziari. Hanno a che fare anche con lo statuto, con i titoli, anche i premi, l'ego, la reputazione e quindi mi tocca dirvi oggi che giornalisti e scienziati che hanno acquisito un profilo pubblico, una fama nazionale esclusivamente grazie alla crisi covid oggi hanno un conflitto di interesse. Non finanziario ma molto importante. Vorrei anche parlarvi appunto oggi di giornalismo pandemico. Questo articolo che vedete nella slide è un articolo che ho scritto insieme a Katrin Rivà per Recheck. Giornalismo in modalità pandemica embedded, compiacente e incapace di contribuire al dibattito democratico. È stato pubblicato il 22 aprile del 2020 ed è disponibile anche in italiano sul nostro sito. Intendiamoci, mi dispiace per tutti questi colleghi e colleghe che si sono dovuti improvvisare esperti di scienza e medicina nel giro di poco tempo. Tuttavia sono passati 18 mesi e francamente non vedo grandi miglioramenti. Continuo infatti a vedere che si occupano di questa crisi molti cronisti di politica, attualità e cronisti parlamentari. Vedo molto copia in colla di comunicati stampa, comunicati stampa governativi e dell'industria farmaceutica e vedo tantissimi pareri di esperti. È una cronica mancanza di messa in prospettiva insieme ad un'inquietante ignoranza dei meccanismi di base della biologia e della medicina che spesso si traduce infine nella mancanza di messa in contesto. Perché per dire che un dato fenomeno è anormale devi sapere anzitutto cos'è normale. Sappiamo per esempio che qualunque numero ha senso solo in un contesto, ovvero in relazione ad un denominatore. Per parlare più semplicemente 10 gatti sono niente se hai una tenuta di 10 ettari. Sono tantissimi se abiti in un monolocale senza balcone e magari di 30 metri quadri. E siamo d'accordo, credo. Eppure il giornalismo pandemico salve le dovute eccezioni spara da marzo 2020 numeri e affermazioni senza contesto, senza messa in prospettiva. È grave? Io credo che sia gravissimo. Oserei dire un peccato capitale perché confonde la popolazione e poi tante speculazioni e i modelli matematici presentati come se fossero degli oracoli. In questa slide vedete un estratto da Modeling the Models, un articolo che è stato pubblicato nel 2020 scritto da Carl Hannigan e Tom Jefferson. Vi leggo alcuni frammenti. Tutti i modelli che siano prospettivi o retrospettivi, se sono fondati su principi scientifici, contengono sostanziali incertezze e sono incompatibili con dichiarazioni sicure come se fossero degli oracoli. I metodi moderni informatici rendono possibile e semplice adattare modelli precedenti con frammenti di dati. Ma ogni epidemia è per definizione non lineare e caotica. I modelli sono accurati se sono accurate le informazioni che inseriamo. Le limitazioni devono essere esplicitate e discusse. Ed infine tutti i modelli dovrebbero essere comunicati insieme a queste messe in guardia. questo sappiamo che non succede praticamente mai. Un altro punto che qui in questa slide ho chiamato vedo rosso. Un fenomeno ricorrente nel trattamento giornalistico di questa crisi è l'uso del colore rosso. Ampia letteratura è disponibile sull'effetto che fa il colore rosso sulla psico-umana. Pensiamo ai semafori. È il colore dell'allerta, dell'emergenza. È qui vedete due articoli in questa slide che nel 2020 tentarono per esempio di suggerire che presentare SARS-CoV-2 in rosso fosse non solo un falso, ma che rischiava di aumentare l'inquietudine generale, messe in guardia quasi sempre ignorate. Il rosso è diventato con eccezioni naturalmente anche il colore preferito per la nostra curva quotidiana. Persino sulla piattaforma della Johns Hopkins che Mezzo Pianeta usa per cercare i dati. Noi a Recheck preferiamo usare Our World in Data. C'è anche un ricorrente uso di linguaggio bellico e anche su questo abbiamo una vasta letteratura scientifica. L'uso di retorica di guerra in salute pubblica e in medicina è opinabile perché porta molti rischi. Anzitutto divide il mondo fra buoni e cattivi, vincitori e vinti, spaventa e la paura non è mai una buona consigliera, tantomeno nelle politiche sanitarie. D'altronde fra speculazioni anziché fatti e infinite interpretazioni e opinioni, la copertura mediatica della crisi corrisponde quasi sempre a vere e proprie promesse di apocalisse. Mai una gioia, si dice a Roma, la mia adorata città d'origine. Cinismo a parte è oggettivo che le buone notizie non fanno audience, non creano clicks, non trainano. Quindi il modello dei media, del cosiddetto clickbaiting, si applica purtroppo anche a questa crisi internazionale. Devo confessarvi che mi fanno gelare il sangue i giornalisti pandemici perché appunto all'improvviso sono tutti specializzati in medicina. Ma com'è possibile? Non è possibile infatti, purtroppo si vede. D'altronde la comunicazione del rischio in salute pubblica è un'arte fondamentale e molto difficile. Ospite a Padova in questi giorni al CICAP Festival c'è un vero colosso che si è occupato tantissimo di questo argomento. Gergi Gerenzer ha lavorato molto sul tema, in particolare sulla alfabetizzazione a rischio, anche detta risk literacy. Ha detto alcuni anni fa al portale Health News Review, che vi consiglio di consultare, ottima fonte, nel ventunesimo secolo e in una democrazia, in salute e medicina non bisognerebbe sistematicamente ingannare il pubblico sui benefici e i danni. In questa slide vedete anche il test che è a cura del Harding Center che Gigerenser dirige e di altre organizzazioni e vi consiglio di provarlo perché ti aiuta ad avere un senso di quanto riesci a comprendere il rischio e il beneficio che sono così importanti in medicina. E poi la scienza pandemica, la scienza pandemica che chiamerò oggi fuori controllo per rubare il titolo di un articolo importante che è uscito ad aprile del 2020. Ho un conflitto di interesse con le autrici Ginny Lancer e Shannon Brownlee perché condividiamo un progetto non lucrativo che è la lista degli esperti indipendenti dall'industria farmaceutica. Le due hanno scritto, nell'introduzione di questo articolo che vi consiglio assolutamente di leggere. Un'eredità tossica di ricerca di bassa qualità, hype da parte dei media, debole controllo da parte delle autorità di regolazione e una violenta partigianeria stanno toccando il fondo nella ricerca di trattamenti efficaci per il Covid-19. Un articolo del 2020. Questo che vedete invece in questa slide è un preprint, quindi ormai lo sanno tutti, non è passato per un processo di peer review ed è uscito poche settimane fa. Hanno analizzato i dati fra gennaio 2020 e il primo agosto 2021 tutti gli studi, le pubblicazioni scientifiche indicizzate in Scopus. Loro hanno trovato 210.863 pubblicazioni legate al Covid e hanno trovato 720.801 singoli nomi di autori e coautori. Una cifra mostruosa. Da tutte le 174 maggiori discipline scientifiche, compresi entomologi, ornitologi, paleontologi e ci sono anche 5.364 autori che appartengono alla fisica e all'astronomia. Hanno trovato anche un esperto di pannelli solari ed un ingegnere automobilistico che hanno scritto di Covid. Ora, con tutto il rispetto enorme per ogni professionista, per ogni accademico e ci mancherebbe. Io non sono così sicura che il contributo di ornitologi, entomologi e astronomi fosse davvero indispensabile. Magari sbaglio. E la qualità di questi studi? A saperlo, perché questo studio non si è occupato della qualità. Avremo modo nei prossimi anni di capirlo. Gli autori di questo studio sono andati a cercare le stesse metriche a mo' di paragone per altre malattie, per altre malattie infettive e hanno trovato che meno di un decimo erano stati gli autori che invece avevano pubblicato su H1N1, Zika, Ebola e la tubercolosi. Ci sono tantissime domande, anzitutto vabbè lo spreco, ci sarà senz'altro dello spreco, ma questi scienziati che si sono buttati nel Covid poi torneranno alle loro discipline, perché sulla tubercolosi per esempio ci servono gli specialisti, perché parliamo, le stime dicono che oltre un miliardo di vittime ci sono state per la tubercolosi e sappiamo che nei prossimi anni aumenteranno, perché le restrizioni pandemiche, non è uno scoop, hanno portato importanti interruzioni a programmi fondamentali di screening e terapia della tubercolosi in molti paesi in via di sviluppo. E poi cosa abbiamo visto? Vediamo la guerra delle fazioni contrapposte, la guerra a palle di fango, vediamo colleghi che si bloccano a vicenda sui social media e vediamo comuni cittadini che insultano accademici per divergenze d'opinione su complesse questioni che attengono alla epidemiologia della malattia infettive. Allora intendiamoci, io lavoro per la diffusione del pensiero scientifico ad un largo pubblico e quindi certo che la zia Carlotta ha il diritto di studiare e farsi un'opinione, ci mancherebbe, ma io non credo che possa nel giro di pochi mesi, grazie ai media mainstream e a internet, arrivare ad avere un PhD in epidemiologia delle malattie infettive, penso che siano d'accordo. E invece oggi tutti epidemiologi, si parla di epidemiologi da tastiera. Io dubito che l'immaginaria zia Carlotta possa dibattere alla pari con uno scienziato che si occupa di questi temi da 40 anni. Eppure è successo, sta succedendo e grazie anche al giornalismo pandemico e al messaggio che arriva dai governanti che stesso va riconosciuto, dimostrano di non saperne molto di più della zia Carlotta. Consentitemi allora di mostrarvi velocemente due slides di base. Gli studi scientifici non sono tutti uguali e al CICAP lo sapete bene, anche quando un quotidiano o un ministro o una ditta lo sostengono. Questa prima slide, quando insegniamo i metodi con cui lavorare la presentiamo sempre come la scary slide, quindi la slide che fa paura. Questa è la grande famiglia degli studi medico-scientifici. Come potete vedere, molti di voi già lo sapete, comunque come potete vedere qui ce ne sono tantissimi, sono tutti diversi, hanno potenzialità diverse, design diversi, servono a fare cose diverse. E in quest'altra slide vedete quella che è una semplificazione, una cosiddetta piramide, dove vedete che in cima ci sono gli studi che ci danno, diciamo, più sicurezza rispetto alla solidità delle prove e in basso più scendete nella piramide e meno è forte, diciamo, l'evidenza. E come vedete in basso nella parte blu, quella è considerata nessuna prova. Che cosa significa? Quella è considerata nessuna prova e come vedete ci sono le opinioni degli esperti. Inoltre, che cosa succede nella scienza pandemica fuori controllo? Che misure inedite non farmaceutiche, cosiddette, per esempio il lockdown, il distanziamento, le mascherine, per citarne solo alcune, c'è una incredibile scarsità di studi di alta qualità. C'è stata d'altronde la guerra del fango sulla domanda ontologica se si possa studiare una misura non farmaceutica con un RCT, quindi un cosiddetto studio randomizzato, controllato, in doppio cieco. Constatazione, se ne sono fatti comunque pochi e niente, per misure che sono applicate a miliardi di persone. Non è incredibile? E poi veniamo al quarto punto che è la comunicazione e salute pubblica. Insieme alla mia socia di ricerca, Katrin Rivà, ho di recente pubblicato questo articolo sul British Medical Journal riguarda gli incentivi vaccinali su i vaccini Covid evidentemente. Abbiamo trovato denaro, ciambelle, aringhe, ogni paese c'ha le sue, birre, spinelli, camion, pistole, che sono offerti ai cittadini per convincerli a vaccinarsi. Ora, fra le persone che abbiamo sentito per preparare questo pezzo per il BMJ, Alison Pollock, che è la direttrice del Centro per l'eccellenza nella scienza regolatoria alla Newcastle University, ha detto che le campagne vaccinali dovrebbero essere fondate sull'informazione, la fiducia e il consenso, non sulla coercizione e la corruzione. Rimanendo in questo settore molto delicato, stiamo assistendo anche alla implementazione di cosiddetti incentivi negativi. Che cosa significa? Limiti di accesso a luoghi pubblici se non sei vaccinato. Riguarda molto i datori di lavoro, obbligo vaccinale per i dipendenti e anche l'obbligo di test senza vaccino ma a pagamento. Tutti incentivi negativi per costringerti un po' a vaccinarti e questo porta molti, molti rischi perché la salute pubblica si basa sulla fiducia. E poi c'è il framing, framing inquietante. I media, i social media fanno spesso di tutta l'erba a un fascio, con l'utilizzo di terminologie veramente pesanti, come lo storicamente connotato negazionisti, ma anche l'etichetta di antivax che è usata, mi sembra, molto spesso a sproposito. Per darvi un esempio, ho visto di recente un onesto specialista di salute pubblica italiano, di cui non fare il nome, l'ho visto essere accusato su Twitter di essere un antivax da un epidemiologo da tastiera. Perché? Perché aveva osato ricordare in un tweet che sulla terza dose, quindi il booster del vaccino pandemico, per ora ci sta solo un comunicato stampa del produttore del vaccino. E questo è stato sufficiente per dire che è un antivax, posso dirvi che non lo è. Insomma, c'è tanto rumore di fondo, c'è tanta paura, c'è molto caos anche nella comunità medico-scientifica. Ci sono questi governi che evidentemente non sanno che pesci prendere, ma ostentano sicurezza e ci sono queste task force da rompicapo. Voi in Italia avete centinaia di esperti che ne fanno parte. Ora, io non so voi, avete mai provato a mettere d'accordo dieci esperti attorno a un tavolo? È già molto complicato, ma centinaia? E poi i dissidenti a rogo. E già la parola dissidente mi fa parecchio paura, perché la scienza si nutre di errori e di dibattito. E quindi torniamo al titolo del premio. In difesa della ragione, noi non bruciamo gli scienziati come si faceva con le streghe nel medioevo, giusto? Invece lo stiamo facendo. E tra l'altro affibbiare l'etichetta di cospirazionista è un gioco pericoloso nella scienza medica. E pensiamo a un esempio molto recente. L'ipotesi che il SARS-CoV-2 fosse una fuga dal laboratorio di Wuhan. È stata presentata per mesi come una teoria cospirazionista, finché oggi invece è diventata un'ipotesi ritenuta plausibile. In questa slide ho messo giusto un paio di esempi. vi leggo i titoli in italiano. Ottobre 2020, ecco perché la teoria della cospirazione è un falso. Maggio 2021, perché la teoria del leak di laboratorio a Wuhan viene presa sul serio. Ed eccoci qua, luglio 2021, British Medical Journal, i media sono stati vittima di una campagna di disinformazione? Ora, è evidente che c'è ancora tanto che non sappiamo ed è evidente anche che c'è anche dentro la geopolitica. Quindi, ai posteri l'ardua sentenza. Avvicinandoci alle conclusioni, mi permetto di consigliarvi una risorsa, se non la conoscete, Riot Restoring Invisible and Abandoned Trials. Ha una pagina dedicata dove sono raccolti tutti i documenti dagli studi sui vaccini Covid. Perché c'è un problema con i dati, ed è inutile negarlo, sarebbe controproducente. C'è una grande mancanza di trasparenza, che è cronica in questo settore, ma in questo momento ancora più grave evidentemente, perché sono temi importanti di cui sarebbe fondamentale poter parlare con serenità. Noi siamo dalla parte della sanità pubblica e parlarne significa anche aiutare le autorità di regolazione a farsi rispettare dall'industria farmaceutica. È importante che la comunità scientifica partecipi a questa partita, ma lo può fare solo se ha accesso ai dati completi. In questo momento non ce l'ha. Infine, io credo che sia importante che noi tutti facciamo attenzione ad un fenomeno nuovo e inquietante che è emerso durante questa crisi internazionale. A ricerche lo chiamiamo il Ministero della vera scienza. Sono i social media che sono spinti dai governi e dai media, ma ci mettono anche del loro. Laddove la scienza si nutre di dubbi, domande, errori, prove, riprove, il Ministero della vera scienza invece conosce la verità. E censura, o appone un bollino, dove secondo le aziende private di fact-checking che loro ingaggiano, così deve essere. Ne ha parlato, per esempio, lo vedete in questa slide, l'oncologo americano Vinay Prasad, un articolo che ha scritto per Mad Page, che vi consiglio assolutamente di leggere, ma gli esempi sono tanti e bizzarri. Penso a cosa succede da mesi all'epidemiologo di Stanford, Martin Kulldorff, colpevole di dire dall'inizio di questa storia che c'è una differenza importante in termine di rischio di morire con SARS-CoV-2 fra classi di età. Ergo, argomenta Kulldorff, che è un esperto, vanno protette le persone anziane e malate. Kulldorff sottolinea anche i danni collaterali delle misure draconiane, come il lockdown. E qui si tocca il ridicolo. LinkedIn ha censurato di recente il professor Kulldorff perché ha pubblicato il punto di vista del capo epidemiologo islandese sulla ormai scottante questione della cosiddetta immunità di gregge. Ora, non è esattamente un punto di vista strano che venga da chissà quale oscura forza del male, un'autorità di salute pubblica. Eppure è stato censurato. È successo anche a me, in misura senz'altro minore. Ho scritto per il British Medical Journal sul materiale che è stato sottratto all'Agenzia Europea per i Farmaci, l'EMA. È un pezzo di inchiesta sulla questione della stabilità dell'RNA nei vaccini, in particolare nel vaccino di Pfizer-BioNTech. Un medico spagnolo, Juan Gervas, l'ha postato su Facebook. Come vedete qui in questa slide, Facebook ha impresso il marchio. I vaccini contro il Covid-19 sono sottoposti a molte prove di efficacia e di sicurezza prima di essere approvati. Ora, consideriamo che all'epoca non erano neanche approvati e bensì autorizzati in procedura di emergenza. ci sono molte differenze. Il mio caporedattore al BMJ ha commentato a noi non c'era mai successa una cosa del genere. Preciso qui anche che ho un conflitto di interesse anche con il dottor Gervas, perché siede nel Comitato Consultivo Internazionale di Recheck, gratuitamente. Concludo con due ultimi contributi. Questa è la guida che abbiamo scritto insieme a Katrin Riva su incarico della rete mondiale del giornalismo d'inchiesta. È una guida che forse in questo momento è importante, perché negli ultimi anni si sono accentuati problemi cronici di questo settore e l'elefante nella stanza durante questa crisi è la mancanza di conoscenze di base, non solo nel giornalismo in generale, ma purtroppo, devo dirlo, spesso anche in quello scientifico. La versione italiana è stata curata da Il Pensiero Scientifico Editore, che ringrazio, l'Associazione Alessandro Liberati, che è il gruppo Cochrane Italia, e Illuminiamo la Salute. È una guida in accesso open, quindi è gratuita, e alcune copie cartacee sono lì al congresso, a Padova, e comunque è su internet in tante lingue, tutte gratuite. È una guida che abbiamo scritto per cercare di dare una mano, può aiutare forse perché illustra le basi della metodologia degli studi clinici, il processo di approvazione di farmaci e vaccini e molte altre questioni, fra cui i conflitti di interesse, che sono importanti. E poi, questa è davvero la fine della mia presentazione. Noi a ReCheck spesso veniamo contattate da persone di ogni genere e è un nostro dovere proteggere le fonti, e di questi tempi è complicato. Abbiamo quindi messo nel nostro sito questo sistema che consente di parlare con noi senza che ci siano orecchie indiscrete in ascolto. Può essere usato anonimamente, oppure lasciando ogni dettaglio per essere ricontattati. Naturalmente ogni segnalazione verrà verificata a fondo. È uno strumento che abbiamo messo in piedi in collaborazione con Global Leaks, che fornisce questo tipo di strumenti a molte altre organizzazioni che, come noi, lavorano nel pubblico interesse e senza scopo di lucro. Grazie mille.